Sì, ho pensato, il lavoro è finito, non hai niente da fare. Non li avevo mai visti, i tuoi occhi così, grandi, neri, neri. C'è bello di fare l'amore con te. Sono freddo. Ti trovi normale che una femme di mon âge fassi? Sono cattolica, bianca, non posso più avere un figlio. Tu infliggisci troppo. Per un arabo che ha 30 anni meno di te. Per me gli arabi fanno proprio paura. Non sai mai che cosa vogliono, che cosa pensano. Tutto bene signora Basile? Sì, grazie. Mi sono innamorata, ma non ti vergogne. C'è un'histoire absurde che ha détruito la mia vita e non voglio diventare folle. Moi, ho defianto la mia famiglia per te. C'è vero, ma mi ha guardato come un monstre. Questa storia non può continuare. Mohamed! Posso fare. Questa storia non è una чтобы, è un problema. Questa storia non può essere, eccup estem, eccipzig. Forse controller e tirodola di cartella dessin,